La malattia valvolare ortica si realizza in un contesto di grande fragilità, quindi in pazienti anziani, spesso scompensati, che presentano multimorbidità. E per questo, visto l'elevato costo, l'atto complesso terapeutico, ci sia una valutazione anche sotto il profilo etico. Da ciò nasce proprio l'idea della multidisciplinarietà, dell'artim e della medicina personalizzata. Questo è l'andamento della malattia valvolare nel corso di questo secolo. Vediamo come la malattia reumatica ha avuto un grande boom durante la rivoluzione industriale per il passaggio, lo spostamento di grosse masse di popolazione verso le aree urbane. E poi via via, seguendo questa freccia rossa, è scelso perché c'è stato un maggiore accesso alle cure. Ma quello che ci interessa è la malattia degenerativa. Abbiamo a che fare sempre, aumenta l'età media, cresce la popolazione al di sopra i 70 anni, che ci ritroviamo in sala operatoria, in terapia intensiva, come anestesisti. E quindi lo vediamo anche qui, il Statistic Bureau ci dice che in questo secolo dal 5% passiamo al 40% circa di pazienti al di sopra i 65 anni, con un maggiore preponderanza nel sesso femminile. Un capitolo a parte hanno queste malattie valvolarie emergenti, che riguardano malattie infettive come l'EDS, abuso di droghe, come farmaci per l'emicrania e argotamina, farmaci anoressizzanti, come la fenfluramina, c'è stato il boom negli anni 90 per i soggetti obesi, la sindrome anticorpi antifosforipidi e tutte quelle patologie che derivano dai grossi flussi migratori dal sud verso il nord del mondo. Per quanto riguarda quella che è proprio la valutazione del rischio, noi dobbiamo prendere in considerazione gli score che ormai conosciamo tutti, che sono validati, che sono l'euroscore, il logistico, mortalità attesa per un determinato paziente, l'additivo per gruppi, l'euroscore 2, l'STS score. Qui ho voluto anche menzionare l'Acef, approfittiamo della presenza del professor Menicanti, è un euroscore che è stato elaborato dal gruppo del dottor Ranucci, al San Donato e chi ha avuto grande successo nella cardioanestesia tedesca ed è stato anche ben visto al Mount Sinai dal gruppo di Adams. Ma è importante anche valutare, sono due macroarie, ma che rientrano tutte in uno stesso insieme, la fragilità del paziente, quello che ancora non si fa tutti i giorni, non è validato e non lo facciamo costantemente. Cioè andare a valutare attraverso delle scale, qui ho messo alcune, delle tante scale che ci sono, quale è il Comprehensive Geriatric Assessment, il Multidimensional Prognostic Index, la Cardiovascular Health Study Scale e poi esami molto semplici e fruibili per il paziente come il 5-meter Gate Speed e il 6-minute Walking Test. Sono scale che vanno da 1 item fino a 12, 24, 40, 70 items. Naturalmente dobbiamo tentare di utilizzare anche per problemi logistici delle scale molto semplici e molto facili e facilmente somministrabili. Iniziamo a parlare subito dell'Euroscore. È uno score ormai validato, è iniziato questo studio su 20.000 pazienti, 128 centri, tra cui anche l'Italia, 68 fattori di rischio preparatori presi in considerazione e 29 relativi all'intervento, di questi sono stati presi in considerazione 18 parametri che sono stati messi insieme in tre sottogruppi. Insieme all'STS score sicuramente hanno suffragato score di rischio vecchi, quali il Persson, l'Igins, il Tumann, che erano costruiti su pazienti nordamericani. Hanno dei punti di forza ma anche dei punti di debolezza. L'STS score, contrariamente all'Euroscore, è costruito a mio avviso anche un po' meglio anche l'organizzazione proprio dell'STS. Finora i dati, questi sono dati che ho preso dal 20 settembre del 2016, ha reclutato circa 5.800.000 pazienti, sono 1.119 operatori. Considerate che negli United States e Canada circa il 90% degli operatori tra cardiochirurgia non utilizza l'Euroscore. Hanno 12 ospedali di supporto e inviene i dati al centro statistico della Duke University e poi hanno un rapporto a cadenza biannuale di tutta l'attività chirurgica, degli indicatori di rischio, della mortalità post-operatoria. Ci sono tutta una serie di parametri, prendo in considerazione 40 parametri e non 18 come l'Euroscore 2. Sicuramente per noi è importante anche andare a valutare non soltanto quelli che sono i fattori di rischio pre-operatori ma anche post-operatori. Per noi anestesisti fondamentale la durata dell'intervento, la degenza in terapia intensiva, l'insufficienza renale acuta post-operatoria, l'insufficienza respiratoria che spesso necessita di intubazione neurotracheale si è visto da recenti lavori su anestesiologi che raddoppia la mortalità nei pazienti soprattutto in età sopra 70 anni. Ancora l'uso di emocomponenti. Quindi è interessante avere un riscontro tra quello, cioè lo errazio, tra quello che noi abbiamo predetto con l'Euroscore e quello che abbiamo osservato. C'è un, ho letto un editoriale del professor Menicanti che giustamente un po' sull'Euroscore 2 diceva ma l'Euroscore 2 se io ho un Euroscore di un paziente al di sopra dei 40 anni che facciano l'opero, cioè serve solo a fare selezione o vogliamo veramente, e questa è una domanda un po' complessa questa cosa, dovremmo capire se effettivamente dovremmo andare a valutare anche quella che è la mortalità e mettere in rapporto a quello che è il rischio pre-operatore del paziente. Perché valutare la mortalità così com'è significa fare selezione. Quello che succede purtroppo in molti centri. Queste sono le differenze tra l'Euroscore 2 e l'STS score, vedete i 40 parametri dell'STS score presi in considerazione contro i 18 dell'Euroscore 2. Va detto che punti di debolezza sicuramente sono che questi score sono stati costruiti su, agli inizi degli anni 80, su una popolazione più giovane. Noi sappiamo che l'età media è molto aumentata e aumenta ogni anno in maniera esponenziale. E l'età giovane ancora sono poco organo specifici e non considerano la fragilità. E poi ancora tutta una serie di fattori che interessano al chirurgo, aorta porcellana, a radiotopera terapia toracica, bypass pervi, epatopatia cirrotica avanzata. Per quanto riguarda l'Acef, il gruppo del dottor Ranucci, l'hanno validato su 4.000 pazienti, l'hanno comparato con 5 modelli, Cleveland Clinic, Norte New England Score, Personet, Euroscore Logistico e Standard. E' uno score, a mio avviso, molto interessante da tenere in considerazione perché è uno score semplice che noi possiamo fare in 3 secondi al letto del paziente. Mettiamo in considerazione l'età, la cretinina, la frazione di aiezione e abbiamo subito dei valori, vedete in basso, pazienti con un Acef inferiore o uguale a 1, basso rischio, in alto, pazienti con un Acef maggiore o uguale a 5, alto rischio. Semplicissimo. E' importante un piccolo cenno di statistica medica per parlare un poco di quello che è lo stato dell'arte, la validazione, la letteratura di questi score, andare a parlare di discriminazione, cioè l'abilità di andare a differenziare tra pazienti a basso e alto rischio, quindi qua abbiamo una ROC curve, AUC sta a area under curve, quindi più è grande quest'area, più questa linea rossa si sposta verso l'ordinata, maggiore l'attendibilità degli score che ne utilizziamo. e poi ecco la calibrazione, cioè l'aderenza tra quello che abbiamo predetto e quello che abbiamo osservato. Vi annoio due secondi con quello che ci dice la letteratura. Nel 2009 l'STS, in questo grande studio, part 1, 2 e 3, ci, fatto su coronarici, coronarici più valvolari e valvolari, ci dice buona discriminazione, ma una limitata calibrazione nei pazienti ad alto rischio. Ancora questo lavoro del gruppo di NASHF, 22.000 pazienti, 154 ospedali, 43 paesi, buona discriminazione e calibrazione dell'Euroscore 2. Lo studio di Barili del 2013, ci dice una bassa calibrazione nei pazienti ad alto rischio. Quello che mi ha colpito di questo studio è che mette in evidenza come questi score non siano adeguati alle nuove tecniche chirurgiche, ai nuovi device, alla nuova assistenza che noi abbiamo come cardio-anestesisti nel post-operatorio. E poi mette in evidenza l'STS che è più accurato nei pazienti ad alto rischio e che ha la differenziazione nelle tre differenti classi chirurgici, solo coronarici, valvolari e valvolari più coronarici. Ancora, questi riguardano i nostri moderatori, anche sono studi fatti su TAVI, l'Euroscore 2 e l'STS sono meglio il logistico, l'abbiamo detto, tende a sovrastimare tre volte il rischio il logistico. Ci dicono molti lavori su TAVI che l'Euroscore 2 discrimina e calibra meglio. L'STS tende a sottostimare. Però poi dipende anche tutto dall'approccio. Questo studio fatto dal gruppo di Heinzing ci dice che in approccio in transapicale l'STS, vedete qui, ha sicuramente calibre e discrimina meglio. L'ultimo studio, quello di Osnabrück, 60.000 pazienti circa, multicentrico, mette in considerazione, vedete, di questi 60.000 pazienti ci dice che in questo grafico qui a sinistra l'STS ha una perfetta calibrazione e anche una buona discriminazione. Però all'interno di questo studio dobbiamo vedere che circa 40.000 pazienti sono coronarici. Andiamo a vedere invece i valvolari e vediamo come l'STS e l'Euroscore 2 in che modo incidono. E infine l'ultimo studio, una meta-analisi, secondo me molto interessante, che prende in considerazione tutti questi studi di cui abbiamo anche parlato, Barili, Durando, Osnabrück e tutto, ci dice che l'Euroscore 2 e l'STS scorro sono abbastanza accurati, però ci dice che sottostimano in TAVI e sovrastimano nella sostituzione valvolare-ortica. In particolare l'Euroscore 2 sembra essere più accurato nei pazienti a basso rischio, mentre l'STS in quelli a alto rischio. Un'altra macro-area di cui volevo parlare, la fragilità. La fragilità è solo multimorbidità? È soltanto età avanzata? Tantissimi studi ho trovato in letteratura, questi sono di maggio di quest'anno del 2016, ci dicono sì, è vero, in parte è anche questo, è questo. Il RERIC, fatto lo studio di casa nostra di Marco De Osanio, ci dice pazienti sopra gli 80 anni hanno una mortalità doppia rispetto agli altri pazienti. Però la fragilità non è soltanto questo. Ci sono moltissimi studi, questo è uno studio interessante di me, che ci parla di fragilità e valvola ortica e ci dice che la fragilità è proprio una sindrome clinica caratterizzata da un'alterazione dei meccanismi omiostatici fisiologici e da una maggiore vulnerabilità a quelli che sono gli stimoli nocivi. E ci dice peraltro che la comorbidità e l'età non sono da soli sufficienti ad andare a valutare l'outcome post-operatorio. Per cui utilizziamo uno score, una scala per valutare la fragilità. E io qui ho voluto portare soltanto il 5 meter gate speed test, ormai si è avuta una validazione di questo test è molto semplice ci vogliono 3 minuti per sottoporlo al paziente il paziente al di sotto che ha una velocità inferiore a 0,6 metri al secondo è un paziente che ha una fragilità avanzata. Questa è un'immagine che ho preso da Filallo che ha fatto molti studi sulla fragilità vedete il paziente con normal gate speed che ha una morbidità e mortalità molto più bassa rispetto a quello con slow gate speed e anche STS più basso. pertanto le conclusioni da questa systematic review circa 5.913 abstract da PubMed Embase Cochrane eccetera ci dicono due cose importanti anche molto forti cioè che la fragilità riesce a predire l'outcome del paziente indipendentemente dallo score di rischio e soprattutto che la fragilità ha una prevalenza nella popolazione cardiovascolare tra il 25 e il 60% che è tantissimo io ho letto i lavori fino agli anni 85-90 la fragilità era stimata nel paziente cardiovascolare intorno al 12-5% quindi vedete come cresce e vi lascio con una provocazione l'età avanzata non è importante questo sono io dopo un recente intervento al menisco che non riesco a correre come il signore anziano che sta alla mia destra e quindi è importante valutare la fragilità nel paziente perché noi valutando la fragilità riusciamo ad avere l'età biologica del paziente e non l'età cronologica grazie 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 grazie